Terra Nuova all'istituzione Le Fornaci, c'è un nuovo regolamento, ne parla il PDL. Cambia il regolamento per l'istituzione Le Fornaci di Terra Nuova Bracciolini e alcuni settori, soprattutto per quanto riguarda il sociale, vengono cassati. Ne parliamo con Giacomo Picchi del Partito delle Libertà di Terra Nuova Bracciolini. Che cosa succede in questa istituzione? Abbiamo visto nei giorni scorsi anche le dimissioni del Presidente. Sì, io penso siano state proprio queste a scaturire questo cambio di regolamento. Infatti è stato deciso con questo Consiglio Comunale di togliere dall'istituzione Le Fornaci la gestione dell'RSA e del trasporto scolastico. Le dimissioni di Gori avevano portato a una discussione del Consiglio Comunale dove si diceva che forse l'istituzione Le Fornaci sarebbe meglio chiuderla. Noi avevamo proposto che gli fosse lasciata magari la cultura, i servizi alla cultura e quant'altro, però che comunque sia i servizi sociali che il trasporto scolastico, eccetera, eccetera, fossero riportati dentro il Comune perché ci sembrava inutile far gestire a un ente esterno al Comune, anche se finanziato dal Comune, qualcosa che bene o male viene già gestito dentro il Comune tramite i dirigenti e tramite i dipendenti comunali. Questo soprattutto per riportare all'interno della discussione del Consiglio Comunale controllo anche su importanti servizi. È scaturito tutto, dicevamo, dalle dimissioni del Presidente. Perché? Perché l'istituzione formalmente ha fallito. In questi anni il CDA si è riunito pochissime volte, si sono dimessi tutti i membri del Consiglio dell'amministrazione, il Presidente si è dimesso. Quello che doveva essere un superassessorato esterno all'amministrazione in realtà non ha portato a niente. Quello che ci sembra doveroso è fare qualcosa di più. Non è abbastanza per portare all'interno del Comune quelli che sono dei servizi essenziali e che dovrebbero essere gestiti direttamente dal Comune in maniera molto più chiara di come viene fatto ora. Si certifica un fallimento totale sia delle istituzioni che di questa maggioranza nel gestire proprio l'istituzione.